il mar rosso uno dei posti più belli della terra due domande perché rosso e soprattutto perché mare per quanto riguarda la prima domanda ci sono varie spiegazioni secondo la spiegazione più scientifica il mar rosso deve il suo nome ad un'alga che si chiama tricodesium eritreum che in alcuni periodi dell'anno in particolari condizioni climatiche si riproduce dando vita a estese macchie rossastre che velano la superficie dell'acqua per i più romantici il nome viene dalle sfumature di rosso che l'acqua assume e rispecchia la roccia rossastra dei monti vicini che sono chiamate infatti montagne rubino l'ultima spiegazione deriva da un probabile errore di traduzione dall'ebraico antico all'inglese infatti la traduzione originale in inglese era the sea of reeds cioè mare di canne evidentemente in seguito ad un'errata interpretazione è diventato red sea il mar rosso ma il nocciolo di questo video è relativo alla seconda domanda perché mare eh sì ragazzi noi lo chiamiamo mare ma lo sapete che il mar rosso non è un mare è un oceano prendiamo due minuti del nostro tempo per capire la differenza tra mare ed oceano bene un oceano si forma quando un grosso continente per una serie di ragioni geologiche si spacca in due le due parti che ora saranno due continenti separati divergeranno cioè si allontanano tra di loro nell'allontanarsi al centro si verrà creare una depressione in questo caso possiamo chiamarla frattura anche se geologicamente non è corretto però qui per capirci va bene in questa grossa frattura l'acqua degli altri oceani comincerà a entrare e intanto i due continenti continueranno ad allontanarsi ovviamente tutto ciò avviene nei milioni di anni non solo un oceano è anche oceano perché al centro di questa frattura c'è una catena vulcanica enorme ci sono infatti tanti vulcani allineati secondo questa frattura da dove fuoriesce materiale vulcanico basalto da qui si crea nuova crosta oceanica queste enormi catene vulcaniche sul fondo dell'oceano le possiamo tranquillamente vedere su google maps o anche su google earth diamoci un occhio insieme prendiamo in esempio l'oceano atlantico se zoomiamo al centro dell'oceano possiamo vedere una serie di segmenti che vanno da sud a nord sembra un po' una grossa cicatrice questa è la catena vulcanica di cui vi parlavo chiamata dorsale medio oceanica questa cicatrice non è altro che il punto d'origine dove africa e sud america hanno cominciato a separarsi milioni e milioni di anni fa all'inizio del mesozoico africa e sud america erano ancora congiunte e questa ferita che vediamo oggi ora non è altro che la linea di rottura di un unico continente molti di voi lo conosceranno sotto il nome di pangea quindi l'oceano è il risultato della divisione di un continente e dove al centro sul fondale marino ci sono dei vulcani da cui fuoriesce nuova crosta oceanica è un qualcosa di incredibilmente dinamico di vivo si muove ritornando al discorso del mar rosso perché il mar rosso è un oceano andiamo a vedere beh già dalla forma l'idea è chiara visto dall'alto il mar rosso è una ferita segue una linea piuttosto rettilinea e al centro del mar rosso possiamo seguire un'altra dorsale medio oceanica anche da qui fuoriesce materiale vulcanico quindi nuova crosta oceanica la differenza con l'oceano atlantico è che il mar rosso o per meglio dire l'oceano rosso è molto più giovane infatti i continenti arabia a destra e africa a sinistra sono ancora molto vicini ma tra 100 milioni di anni saranno lontanissimi il mare invece non ha nulla di tutto ciò infatti il mare è una semplice depressione della terra ci può essere chiaramente attività vulcanica ma non legata al fenomeno di apertura di un oceano in altri termini il mare è una gigantesca piscina che possiamo definire geologicamente più statica il mar nero per esempio non ha nessuna forma rettilinea non ha nessuna dorsale medio oceanica come possiamo vedere è una semplice depressione beh che ne pensate di questo nuovo video aggiungete un commento qui sotto e vi ricordo che se avete curiosità domande di questo genere scrivetemi voglio parlare con voi discutiamone geologia pop è di tutti vi saluto e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti